Welcome back su Cranagio di Cossari, sempre io, Ambro, e oggi, in occasione della serie TV su Disney Plus di Miss Marvel, faremo una partita con lei. È stato un po' rivalutato questo personaggio, ammetto che l'ho giocata poco, e questa è una delle prime partite più approfondite che dedico a questo personaggio in tutto questo tempo. Dopo affronteremo un criminale del set base, ma con un set molto particolare, e dopo vi spiegherò perché. Ma prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di scrivere tra le giochi corsari, così non vi perdete nessuno dei nostri video. Bene, come vi dicevo, affronteremo un nemico del set base, che è il nostro caro amico Claw, lo faremo nella sua versione in esperto. Claw ha 18 punti ferita, nella sua parte 2, 2 di 3, 1 di attacco, quando attacca rivela una carta potenzialmente in più. Quando è rivelato cerca anche nel mazzo una carta che si chiama Claw l'Immortale, e lo andiamo a cercare, ed eccolo qui. Claw l'Immortale, riceve più 10 punti ferita, quindi inizia già così, quindi inizia con 28 punti ferita. Non male. Nella sua versione 3, poi ovviamente aumenta le sue statistiche, ma anche è robusto. E quindi c'è lui. Il suo set base, lo giocheremo con un set modulare che non è il Signore del Male come consigliato, ma è Zax. Quello che si trova nel mazzo di Ironheart. Perché Zax? Perché Zax è uno dei nemici dei fumetti di Miss Marvel. Poi, carta standard, carta esperto. Inconvenza di Miss Marvel. Trama principale, dice il contenuto, cerca nel mazzo degli incontri la trama secondaria e la rete difensiva, e rivelala. Quindi, oltre ad avere Claw l'Immortale, avremo anche la rete difensiva, questa qua, che ci dà un'icona crisi. Bene, non benissimo, ma bene, iniziamo abbastanza bene. Quindi, questo lo giriamo, poi scartiamo carte finché non scartiamo un gregario. Quindi, iniziamo a fare questa preparazione. Queste due vengono già messe qui davanti a noi. Quindi, pam, pam, pam. E questa viene posizionata dopo, che è l'inconvenza. Giriamo, meschiamo bene. Ovviamente Claw inizierà qui, con il suo bellissimo... Mettiamo un po' più avanti, che se non lo vediamo meglio. Eccolo qua. Che ha 18 punti ferita, 28 per Claw l'Immortale. Zero qua. Tre per giocatore qui. E quindi anche tre qui. Mescoliamo per bene. Scarto carte finché non contro un gregario. Voilà. Vediamo. Riusciò a trovare un gregario? Eccolo qua. Guardia corazzata. Guardia. Uno di attacco, zero di trama. Tre ferite. Robustezza. Quindi, queste vengono scartate. Questa mischiata. Voilà. Lui è robusto. Ma andiamo subito a vedere il mazzo di Miss Marvel. Ovviamente. Allora, Miss Marvel. Innanzitutto, lei è un inumano. Ha 5 di recupero. 10 punti ferita. E uno per ogni statistica. Dopo che hai giocato un evento attacco, intervento difesa, se la esorisci, lo riprendi in mano. Invece, nella sua versione alter ego, come azione, scarta carte finché non scarti una carta del Miss Marvel. Aggiungi quella alla sua mano. Allora, iniziamo con le sue 15 carte del 7. Ok? Poi, l'aspetto che ho scelto per lei è offensiva. Abbiamo 2 potere dell'offensiva. 1, 2 ad estramento d'assalto. 1 tecnica perfezionata. 1 potenza marziale. 3, 1 alla volta. 3, mischia. Locusta, Torg, Spidergirl, Brown, Genialità, Energia, Forza, per i Champion, ovviamente. Bunker mobile dei Champion. Pausa pranzo. Resistenza fisica. Spider-Man's Murales. E Iron Heart. Ovviamente, tutto base di Champion. Mescoliamo il suo mazzo. Gli diamo una bella mescolatina. Con queste bustine super belle. Guardate che belle. Ovviamente, mescoliamo. Mettiamo qua la nostra amica. Sul lato, ovviamente, Alter Ego. Ha 10 punti ferita. Quindi, inizia con 10 punti ferita. E gliele mettiamo qua davanti. Mescoliamo per bene. Diciamo che è abbastanza tosto, eh? Devo cercare l'amico Clò così. Allora. Vediamo di subito di riuscire a fare qualcosa di interessante. Soprattutto di riuscire a togliere le prime trave. Perché sennò... Queste due trave secondarie sono davvero toste. Allora. Fatto. Mischia. Uno alla volta. Mischia. Amir Khan. Nakia. Torg. E per i Champions. Questi due li teniamo. Queste le scartiamo tutte. Vediamo cosa peschiamo. Uno alla volta. Iron Earth. Bruno Carelli. E Spider-Man Smash Morales. Un sacco di supporti. Vabbè. Ma in realtà questo ci serve. Kamal Khan si attiva. Azione. Gira finché non rivela una carta del suo set. Mani giganti. Adesso. Con due risorse. Faccio Iron Earth. E pesco una carta. Genialità. Ecco. Questa cosa ci volevo. Poi. Con Bruno Carelli. Faccio. Nakia. Nakia ci fa giocare la prossima carta in meno. E quindi sarà Amir Khan. Amir Khan. Metto una carta in fondo. Mettiamo Mischia. E ci fa pescare una carta. Margini di manovra. Uso tre risorse. Per giocare Spider-Man Smash Morales. Che quando entra. Prende più due interventi. E toglie la rete difensiva. Direi. Ci piace un sacco. Kamal Khan. Interviene di uno. Iron Earth. Interviene di uno. Per togliere. Due minacce da qua. Questa va a uno. E. Mettiamo. Qua. Un danno. Peschiamo fino ad arrivare a cinque. Ingigantirsi. Mani giganti. Scattaiolare. Potere dell'offensiva. E. Spider-Girl. Ripristiniamo. Una minaccia sulla trama principale. Anzi due. Perché c'è l'icona accelerazione su distribuzione clandestina. Claw ci attacca. Iron Earth difende. Uno. Sette danni. Meno male. Non male eh. Quindi via Iron Earth. Lui ci attacca. La guarda è corazzata. Andiamo a nove. Carta incontro. Voilà. Fabbrica d'armi illegali. Aggiungi un'icona per giocatore. Una minaccia per giocatore. E aggiungi un'icona pericolo. Bene non benissimo. Tocca a noi. Allora. La prima cosa da fare. Quasi sicuramente. E. Spider-Girl. Usando il potere dell'offensivo. Questo diventa stordito confuso. Devo togliere un po' di minaccia da lì. Ma adesso lo facciamo. Uso due risorse per giocare sgattagliolare. E tolgo tre minaccia da qua. Poi. Tolgo. Una minaccia da qua. Tolgo una minaccia da qua. Quindi via. E lui va a 18. E tolgo. Robusto da qua. Voilà. Giusto? Giusto. Pesco. Fino ad arrivare a 5. 1, 2, 3, 4. E 1, 5. Mani giganti. Ad estremamente l'assalto. Mischia. Rimpicciolirsi. Brown. Ripristino. Minaccia sulla trama principale. Andiamo a 3. Cloce attacca. Spider-Man difende. 1, 2, 3, 4. Via. Questo è estordito. Carta incontro. Il criminale ti attacca. Spider-Gall difende. 1. Metti in gioco questo con te. 2. Danni. Ok. E la nostra volta. Allora. La mischia non è male. Pronto lo tengo. Anche l'impicciolirsi. No. Ok. uso 3 risorse per fare mischia. E quindi faccio 3 danni qua e 3 danni al trafficante. 3 e 3. Via. Sconfitti entrambi. Potrei attivare Miss Marvel per prendere la mischia? Sì. Attivo Miss Marvel per tenere il mischia in mano. Poi divento Kamal Khan. Giro finché non rivelo una carta del suo set. Sgattaglio la regola qua. Nakia fa costare la carta in meno. Amir Khan mette una carta sotto che direi è genialità. e ci fa pescare una carta margine di manovra e uso 3 risorse allora do usarne solo di meno uso solo 2 perché Nakia mi ha scontato di 1 per fare Brown Brown attacca Clo lo porta a 17 mette 2 minacce qui sopra toglie la minaccia qui sopra fatto tutto quello che devo fare tengo in mano sotto a Yolare pesco fino ad arrivare a 6 potere dell'offensiva addestramento locusta 1 alla volta e mischia ripristina ovviamente un danno lo mettiamo anche sopra Brown metto una minaccia qui sopra siamo a 3 lui trama trama di 2 più 4 ovviamente questa passa qui dice scarta finché non scarti un gregario e lo metti impegnato con te trafficante d'armi trafficante d'armi ovviamente trama di 1 carta d'incontro per noi di Clo eccola qua bella esaurita è la sua incombenza e quindi la rimuoviamo fatta adesso tocca a noi la prima cosa da fare è attivare l'abilità di Kamal Khan finché non rivelo una carta del suo set ce ne saranno ancora? si sgattaiolare ottimo Amir mette forza qui sotto e ci va a pescare una carta pugnale rosso la prossima carta che gioco in questo tool in questa fase costa di meno voilà cos'è che costa di meno? uno alla volta due danni qua e due danni a Clo quindi questo è sconfitto e qua va a 15 braun attacca manda a 14 e toglie una trauma di qui due risorse e gioco Locusta quando entri in campo prendo un evento rosso che direi che mischia e raggiungo la mia mano si ma stacca anche lei di 1 13 poi 3 risorse e giochiamo il pugnaletto anzi così tiriamo 3 risorse così il pugnale rosso pugnale rosso attacca di 2 porta a 11 un danno con una risorsa giochiamo anche addestramente l'assalto utilizzo 2 gettoni esarisci questa carta e rimuovi un gettone per mettere un evento offensivo mischiato nel mazzo quindi uso subito e mischiare il mazzo è un evento offensivo che ovviamente mischia credo mischia 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 si dai vediamoci mischia mischia e mischio il mazzo finito pesco fino arrivo alla 5 1 2 3 4 5 fatto mischia energia forza mischia e tuta in polimeria ripristino minaccia sulla trama principale cloce attacca locusta difende 1 2 3 danni carta incontro per noi il criminale che attacca li prendo vediamo che non mi ammazzi 1 se questa attivazione ti infligge danni esaurisci il tuo eroe un danno me lo fa e quindi esaurito il mio eroe ma adesso tocca a noi allora iniziamo da brown attacca e toglie una minaccia e fino e fino a qua è molto semplice poi l'addestramento che mescola nel mazzo una alla volta ah si stiamo mischia stiamo mischiavando per le scarti il mazzo mescolato lui attacca di due pugnale rosso e manda 8 clo un danno poi una risorsa e giochiamo anche la tuta in polimeri la tuta in polimeri che si attiva per darmi all'evento e fare 3 danni a un nemico e quindi ho 3 danni a clo che va a 5 e mi sa che è quasi ora di attivare e tornare ad essere alter ego alter ego amirkan attiva e mette sgattagliolare in fondo peschiamo una carta genialità fortissimo attivo la sua abilità sgattagliolare queste vengono mischiate prendo la carta incontro a questo punto tengo in mano queste 3 esco fino ad arrivare a 6 margini di manovra forza e rimpicciolirsi fase del criminale una minaccia sulla trama principale ovviamente questo qua è tutto ripristinato lui trama 2 più 1 3 carta incontro che va in coda prima carta incontro scarta una miglioria o un supporto via la chia non ci sono trame secondarie rivelo finché non rivela una trama secondaria non ce ne sono per creare piano supremo che è andato in fumo però ha fatto mettere un'icola accelerazione qui sopra che così tanto in fumo non è queste vengono mescolate e dobbiamo iniziare a fare dei seri danni al nostro caro amico Claude perché se no qua non ce la possiamo fare allora facciamo subito che tocca a noi la prima cosa da fare in questo momento è attivare la camera kamal khan no 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 ma i giganti amir mette mischia in fondo ci fa pescare una carta iron art ottimo questa si che ci aiuta due risorse e giochiamo iron art peschiamo una carta uno alla volta poi brown attacca porta 4 e toglie una minaccia qui diventa miss marvel una risorsa più un'altra risorsa e gioco mani giganti 4 dagli nemico 4 dagli a Claude e esalisco miss marvel per tenerla in mano Claude passa di stadio ha 22 ferite ma è robusto adesso quindi 22 ferite robusto ma iron art è qui per questo devo mettere un danno innanzitutto avranno perché sennò iron art fa un danno e toglie robusto adesso con due risorse faccio mani giganti altri 4 danni e va a 18 e con due risorse tolgo tre minacce da una trama grazie a sgattagliolare e adesso vediamo un po' potrei anche usare il pugnale rosso per attaccare no ne sto un attimo così tengo in mano margine di manovra e uno alla volta e no potrei si giusto e pesco fino ad arrivare a 5 un altro margine di manovra mani giganti e sgattagliolare due minacce sulla trama principale ci attacca claw iron art difende due quattro danni via carta incontro per noi ah impulse claw l'immortale tre minacce va a 28 e la nostra volta una risorsa per questo evento che fa due anni qua e due anni a claw che è il solito una alla volta e quindi va a 26 poi miss marvel devo fare scelte difficili danni o minacce ovviamente devo togliere minacce mi so uso due risorse per togliere tre minacce da colono immortale grazie a sgattagliolare purtroppo tengo in mano margine di manovra anzi tengo in mano le mani giganti che ho utilizzato come risorsa e paga un altro margine di manovra adesso miss marvel ovviamente lui è 16 attacca di uno no toglie la minaccia da qua e ripristino pesco finì ad arrivare a 5 quindi spider girl scattagliolare mischia e ingigantirsi oh adesso ce l'abbiamo anche l'altra carta che fa più danno tre minacce sulla tela principale claw attacca brown difende due quattro danni via via carta incontro per noi ritorsione bene non benissimo anche perché se noi lo dobbiamo attaccare ma ritorsione non ci fa attaccare bene e dovremo toglierla in qualche modo la togliamo così per forza utilizzo tre risorse diverse per togliere ritorsione poi una risorsa più altre risorse da qua tre minacce via potrei quasi quasi tramare intervenire no lui ne fa due cinque due potrebbe essere un sacco se non rimango ancora un turno così sì dai rimaniamo ancora un turno così lei attacca ovviamente la porta a quindici quindi ripristino pesco fino a cinque bunker addestramento resistenza fisica spider man e locusta minacce due sulla tela principale lo attacca pugnale rosso difende due quattro danni voglio prenderla in mano pugnale rosso direi di sì sì uso due risorse per recuperare pugnale rosso in mano e infliggere due danni a un nemico a lui che va a tredici carta incontro scegli se spendere oppure esalire ogni personaggio esalisco ogni personaggio tanto ormai è così ok tocca a noi quasi quasi vorrei fare spider man però questa ci difende maggiormente allora usiamo due risorse per fare locusta locusta va a prendere un evento offensivo uno alla volta locusta attacca di uno porta dodici uso questa risorsa per fare una alla volta fare due danni porta dieci mentre locusta ha un danno qui questa va a scarto pesco fino ad arrivare a cinque cinque abbiamo potere dell'offensiva addestramento torg mischia bruno carelli ripristino due minacce andiamo a quattro c'è tacaclo difende locusta tre danni carta incontro guardia corazzata questa non è che ci piaceva però ce la deviamo tenere allora però c'è anche torg no facciamo così giochiamo un po' torg con questo almeno è robusto poi miss marvel toglie robusto la guardia corazzata e con una altre due risorse facciamo mischia tre danni a guardia corazzata e tre guardia a claw quindi tre danni che viene sconfitta e tre danni a claw che va a sette e facciamo altro direi di no peschiamo fino ad arrivare a cinque uno due tre quattro cinque cosa pranzo mani giganti in una volta dai che riusciamo a sconfiggerlo ripristiniamo due minacce quindi andiamo a sei claw attacca torg difende due tre quattro se almeno due risorse mettiamo zax in campo no ne ho solo una di risorsa energetica quindi zax non entra in campo fa quattro danni e torg gli togliamo il robusto carta incontro quando rivelata colloca una minaccia aggiuntiva su questa carta per il giocatore tre e all'icona crisi ma in realtà in questo turno dovremo riuscire a sconfiggere il claw e la nostra volta allora la prima cosa da fare sicuramente è usare tuta in polimeri più pausa pranzo per fare mani giganti quattro danni a claw che va a tre esauriamo miss marvel riprendiamo mani giganti utilizziamo altre due risorse per giocare gli uomini giganti e fare quattro danni a claw claw è stato sconfitto da miss marvel in realtà non è stato così difficile dobbiamo gestire un po' le trame però questo mazzo di miss marvel secondo me è davvero davvero forte come è forte quello giustizia che gioca per esempio multitasking questo è molto forte perché con l'aggiunta delle carte nuove dei due pack di iron e tenova diventa davvero davvero micidiale nell'offensive contate che mischia se in campo ha tattiche perfezionate e ingigantirsi eccola qua mischia fa tre sei otto danni a un nemico e otto danni un altro nemico al costo tre è davvero davvero forte quindi se vi è piaciuto questo mazzo e se avete domande dubbi perplessità ansie o angosce commentate like al video e ci vediamo al prossimo ciao a tutti ciao a tutti